Andiamo subito sul vivo, i servizi online, il corso si occuperà dei servizi web, dei servizi online delle pubbliche amministrazioni, come già stato detto, vedremo di capire non soltanto cosa sono i servizi su cui voi lavorate, non mi mancherà certamente una chiara idea su cosa sono i servizi, ma perché è importante mirare ad avere servizi di qualità, perché non è così facile come possiamo sia avvicinarci a delle pratiche che consentano di ottenere servizi di qualità e soprattutto anche verificare poi a quale qualità siamo arrivati. L'intero corso suggerisce dei metodi e dei modi sia per progettare servizi di qualità sia per poi valutare il livello di qualità a cui siamo giunti, quindi insomma più in dettaglio andrete chiaramente nel corso dei vari moduli e delle varie lezioni che seguirete. Qui illustro brevemente quello di cui vorrei parlare oggi, insomma, a introduzione di questo percorso. I servizi online quindi cosa sono? Brevemente lo vedremo. Come ne parlano alcune norme come il CAD e altre norme di qualità adesso collegate, perché non basta che i servizi esistano ma è necessario che siano soddisfacenti. Come già diceva Alessandra che ha insomma già introdotto queste cose, perché nel tempo le aspettative dei fruitori cambiano e come tenerne conto, come quali qualità valutiamo, quale e come. E perché in realtà a fare la differenza in tutto questo processo è il tipo di progettazione che adottiamo. Quindi è fin dalla progettazione, fino addirittura direi dalla stesura del bando, qualora ci sia un bando e non sia un servizio realizzato internamente. E non quindi soltanto rispetto appunto delle pur importanti norme tecniche, che sono comunque la base, ma non sono il risultato minimo a cui tendere. Bisogna puntare un po' più in alto. Partiamo da quelli che sono i servizi online e poi come ne parla il CAD, cosa dice il CAD in questo senso, i servizi online e soprattutto cosa intende la PA per servizi online, per servizi web, erogati attraverso tecnologie web. Vabbè, definizioni di servizio ce ne sono tante e non insisto su una piuttosto che sull'altra, qua ce ne sono due possibili. Il prodotto, cioè il cui beneficio dipende da un'attività intangibile piuttosto che da un bene materiale, no? E' l'equivalente immateriale di una merce, dotato di un valore. Ecco, ciò che accomuna l'idea di servizio è il fatto di essere erogato o di, attraverso qualcosa di immateriale o di intangibile, o di avere un valore che sia esso stesso intangibile e immateriale. A differenza, insomma, di un prodotto. Sappiamo che anche i prodotti hanno valore intangibile, insomma, non filosofeggiamo su questo, ma voglio dire che di fatto si tratta di qualcosa che viene erogato e che non ha un corrispettivo fisico vero e proprio. Questo lo sappiamo e questo è valido anche nella PA. Nella PA non sono soltanto le PA che erogano servizi pubblici, possono essere delle aziende private, dei concessionari, come già sappiamo. E' l'utilità pubblica del servizio a definirne, insomma, il carattere per l'appunto pubblico. Quindi queste cose interessano sì le pubbliche amministrazioni, ma in realtà interessano anche il mondo privato. Io poi dirò anche in un paio di slide successivamente come noi stiamo parlando dei servizi pubblici, ma io non sono affatto convinto da quello che vedo, da quello che posso, insomma, anche vedere dietro le quinte. La mia attività è di consulente, quindi mi trovo a lavorare sia con enti pubblici che con aziende private. Quello che vedo, insomma, non mi dice che le aziende private siano molto più avanti degli enti pubblici, come magari si potrebbe pensare. Certamente gli enti pubblici hanno delle peculiarità, come dire, anche una maggior difficoltà organizzativa, ma non è che queste difficoltà manchino altrove e tutti, pubblico e privato, dovremmo essere coinvolti in questi processi di progettazione. In particolare noi ci occupiamo dei servizi pubblici fruiti attraverso tecnologie web, che possono essere i siti, ma anche le app, i chioschi. Domani possono emergere nuove tecnologie. Ecco perché è importante sia aggiornarsi sulle tecnologie, ma vederle all'interno di un contesto più ampio, che è appunto la progettazione del servizio nel suo insieme. Poi le tecnologie entrano ciascuna per la sua parte. Ecco, la cosa che ci aiuta meglio a capire dal punto di vista delle tecnologie web quali sono i livelli di sofisticazione, diciamo, possibile per i servizi, e quindi anche la complessità crescente, è questa classificazione a livelli di interattività dei servizi web, che compare per la prima volta nelle linee guida per i siti web della pubblica amministrazione nel 2011, dove si immaginano cinque livelli di interattività attraverso le tecnologie web dei siti e dei servizi. Il livello 1 è quello in cui l'ente, l'erogatore di servizi, passa un'informazione ai fruitori dei servizi. Quindi, in questo caso, un semplice sito web informativo si pone a questo livello. Le cose si complicano quando noi consentiamo al fruitore di interagire con noi, ad esempio richiedendo un servizio, una risposta, l'iscrizione a un elenco, a un registro, una qualche attività che poi coinvolge nel back-end chi eroga il servizio. Interazione a una via, o interazione a una via è anche quella dove l'ente mette a disposizione un modulo al fruitore, ma non consente al fruitore, per esempio, di rimandarlo indietro, compilato. Questo percorso, rimandare il modulo anche compilato, configura un'interazione a due vie, che è a un livello un po' più completo, già un po' più sofisticato del servizio. Non è tuttavia detto che questo completi l'erogazione del servizio. Il modulo, infatti, deve essere processato, dopo l'invio l'utente potrebbe anche non saperne niente, più niente, potrebbe comunque doversi recare fisicamente nell'ufficio che gestisce il servizio. Interazione a due vie, benché più sofisticato, è ancora un livello che non completa l'erogazione di un servizio online. Questo livello, il livello che lo completa, è il 4, quello che prevede una transazione completa. La transazione significa che scambia due vie, il numero di volte che è necessario, con risposte continue, fino al completamento del servizio vero e proprio, senza doversi spostare fisicamente e andare a usufruirne o a riceverlo presso gli uffici che lo richiedono. Un ufficio, ma possiamo pensare anche al pagamento di un parcheggio, in realtà si applica a molte situazioni. Il livello ulteriore ancora è la personalizzazione, cioè l'idea che l'utente non solo può completare le transazioni online sul servizio, sulla piattaforma che eroga il servizio, ma che la piattaforma riconosce le esigenze e le caratteristiche dell'utente e quindi semplifica all'utente al massimo il processo di erogazione del servizio. Questo significa che la piattaforma ha informazioni sull'utente, le usa, sa come l'utente è diverso da altri utenti e su questa base cambia le procedure, evitando per esempio all'utente di dover scegliere esso stesso quale è la procedura che fa al caso suo, di compilare informazioni che l'ente possiede già e via dicendo. La personalizzazione è un livello un po' più sofisticato, diciamo così, quello a cui insomma si punta. ognuno di noi sa i propri servizi, quelli che segue più da vicino, a quale livello si colloca. E quindi insomma, è un percorso però che deve andare verso questa direzione, verso un livello massimo di personalizzazione. Le nuove piattaforme messe online in questi anni, Taglia Login per esempio, che vedremo tra poco, è nata per consentire questo livello di personalizzazione. L'idea è un po' questa. L'altra idea forte che arriva da diversi documenti dell'Agide e del tipo della trasformazione digitale in questi ultimi anni, è l'adozione di una logica per quanto riguarda i servizi detta digital by default. Significa che non è semplicemente è una questione di progettare le piattaforme web, ma tutto il servizio deve essere pensato fin dall'inizio per essere gestito attraverso tecnologie digitali. Questo significa anche, o può significare, cambiare i processi, anche amministrativi. Significa anche che i canali analogici tradizionali useranno essi stessi gli stessi meccanismi digitali, in modo da evitare sdoppiamenti, per esempio. Cosa che ancora non sta avvenendo. Questo è l'orizzonte verso il quale ci si muove. Solo questo consentirà, diciamo così, una piena espressione del potenziale del digitale anche per la semplificazione delle attività amministrative e dei servizi. Il piano triennale, ecco qui, è il nuovo documento che viene aggiornato di anno in anno, anche se si chiama triennale, viene aggiornato annualmente, definisce strategie e priorità del governo ed è su questo che via via ogni anno bisognerà concentrarsi, far riferimento ed è quello su cui insomma vengono definite alcune scelte che sono sia strategiche sia tecnologiche. Un altro documento di centrale importanza, come sapete tutti, credo, è per l'appunto il CAD che esce per la prima volta nel 2005, un'altra era informatica, era appena stata approvata la legge sull'accessibilità dei siti web e non erano ancora usciti tutti i decreti attuativi. Si iniziava a dare riordino, diciamo così, agli obiettivi e alle strategie dell'amministrazione digitale attraverso questo codice che viene stato poi aggiornato. Un aggiornamento importante avviene nel 2016, cioè l'anno scorso. Questo serve a... questo è uno degli aggiornamenti più rilevanti perché inizia a venire, a uscire dopo la definizione di una nuova strategia digitale del governo e quindi recepisce alcune di quelle indicazioni strategiche che avevamo, insomma, che adesso sono contenute nel piano triennale, che allora sono contenute in altri documenti, la strategia digitale per il paese e anche naturalmente il CAD è stato riscritto, aggiornato, per conformarsi e uniformarsi ad alcune norme europee, perché come sapete, come in tutte le cose, noi abbiamo anche la necessità di rispettare e uniformarci ad alcuni standard e ad alcuni regolamenti comuni in tutta l'Unione. Temi che non sono affatto risolti definitivamente, qui per esempio si parla delle identità digitali, potremmo parlare della firma digitale, potremmo parlare di una serie di altri strumenti che sono indispensabili per poter erogare effettivamente i servizi, ma sui quali non ci sono spesso degli standard stabili e condivisi né a livello nazionale, ma soprattutto a livello sovranazionale. Quindi diciamo che qualcosa che ostacola la piena erogazione dei servizi è anche il livello, diciamo, di standardizzazione ancora insufficiente. Però, sono state poste le basi per una serie di questioni che sono appunto in ogni caso fondamentali. Per l'appunto l'identità digitale, la SPID, la PEC, la posta elettronica certificata, il domicilio digitale, la definizione di documento informatico per dare valore legale anche alle documentazioni in formato digitale e quello relativo alla conservazione. Questi sono alcuni dei temi che il riordino del 2016 ci ha portato all'attenzione e ha definito un po' meglio. Ha inoltre preso in considerazione alcuni progetti che sono comuni all'EPA, il Pago.PA, il sistema di pagamento unico dell'EPA, l'Italia Login, il portale del cittadino, dicevo prima, nasceva con l'idea di fornire un livello di aggregazione dei servizi del cittadino, semplificando così l'accesso prevedendo un luogo unico da cui essere poi reindirizzati sui diversi servizi ai quali, secondo il proprio profilo, ogni cittadino avrebbe diritto. Capite che è una cosa ambiziosa, anche un po' evidentemente complicata, soprattutto perché il panorama dei servizi è molto frammentato, molto disomogeneo, quindi il tentativo di dare omogeneità per forza di cose necessario, ma naturalmente ha dei tempi di piattuazione, spesso diversi da quelli desiderati. Il Pago.PA era stato già introdotto nel 2012 ed è un'iniziativa che consente ai cittadini imprese di pagare in modalità elettronica, andiamo poi per gli login di cui abbiamo appena appena parlato, la casa unica dei servizi, diciamo, l'abbiamo già nominata, Speed l'abbiamo già anch'esso nominato, ma è uno di quelli che ha ricevuto maggior copertura mediatica, è diciamo un sistema aperto attraverso il quale vari soggetti pubblici e privati possono accreditarsi e possono offrire servizi di autenticazione elettronica ai cittadini quindi riconosce un'identità attraverso da spendere e da utilizzare nei servizi digitali anche in maniera da uniformarsi per l'appunto ad altri regolamenti europei ad altre normative standard europei. Ecco, la parabola di Speed come vedete è un po' così accidentata ma è un po' un emblema delle difficoltà che si incontra in questo periodo di difficoltà che non devono scoraggiarsi naturalmente ed è chiaro che quando vanno a regime queste cose poi si fonda effettivamente la base per la costruzione dei servizi. Noi ci muoveremo però su un livello differente ma insomma è giusto sapere che queste cose qua saranno quelle con cui dovremo comunque confrontarci. Il 2016 è partito Speed preparazione di almeno due anni si attendeva entro fine 2017 almeno 10 milioni di cittadini dotati di identità digitale come è andata realmente? È andata realmente che nel 2016 a 6 mesi dal lancio c'erano soltanto 90 mila identità pochi mesi dopo a 9 mesi dal lancio 1 milione e 100 in realtà erogate a circa un anno di distanza dall'obiettivo dei 10 milioni questo aumento che c'è stato da settembre a gennaio 2017 è stato spinto da alcune iniziative specifiche diciamo come il bonus 18 anni e la carta a docenti molte lamentere sul servizio a dimostrazione di quello che stiamo tentando di dire non basta che il servizio esista deve essere soddisfacente e ci sono questo esemplifica tutte le difficoltà a fare un servizio realmente soddisfacente l'aggiornamento di speed di ieri gennaio 2017 abbiamo detto c'era 1 milione 100 mila identità digitali erogate ieri ottobre 2017 1 milione 800 mila 700 mila identità in più da gennaio un ritmo nuovamente rallentato e molto lontano quindi dall'obiettivo dei 10 milioni entro fine anno che ci si era posti ok accenno soltanto al fatto che a breve uscirà un nuovo aggiornamento del CAD sul quale inevitabilmente non possiamo soffermarci un po' perché non è uscito non è ufficiale ci sono dei testi un po' perché appunto non esiste ancora un testo effettivo è stato fatto questo aggiornamento per creare appunto nuovi diritti digitali definire obbliche per le amministrazioni e in qualche maniera preparare le basi per la nuova strategia è importante è chiaro che le norme che cambiano troppo spesso come noi sappiamo non creano un terreno fertile per una piena adozione anche per progettare lavori di lungo di lungo raggio questo è chiaro che è una difficoltà una difficoltà che si spera sia iniziale e che venga poi risolta in seguito ecco vado avanti e provo ad andare se riesco a velocizzare no scusate sto tentando di andare più avanti con le slide ma facciamo che vado avanti un po' velocemente mi scuserete se le scorro tutte così e e volevo arrivare al punto in cui sostanzialmente sentite sì ho perso visibilità delle slide eccoci l'ho recuperato ecco volevo arrivare qui perché non basta un po' al succo abbiamo capito che tutte queste norme cambiano e si adattano a quelle che sono le strategie ma perché non basta che i servizi comunque esistano ma devono anche essere soddisfacenti faccio un breve esempio per capirci l'esempio viene da un servizio reale uno di quelli che ha avuto il maggior successo in termini di adozione la fatturazione elettronica ok questo è una schermata di uno dei software di fatturazione elettronica quello che è iniziato a usare è un'esperienza personale per cui non è non deriva dai test ecco l'ingresso nel software di fatturazione elettronica è questo e pone subito un problema evidente che è quello che non si capisce da che parte si inizia se io voglio creare una fattura per esempio andiamo sul concreto un esempio preciso ho tre possibilità posso cliccare il link fattura arancione in alto posso cliccare quello vicino al quadratino blu che sono fattura che è fattura oppure posso cliccare sulla scheda ingrigita le mie fatture non ho alcuna idea di quale di questi link mi porti alla creazione di una fattura è la prima volta che io uso il sistema non ho altre fatture devo crearne la prima non ho più pallidire da dove cominciare quindi insomma nonostante sia ben presente diciamo così la terminologia fattura è ben presente in vari punti dell'interfaccia questa presenza non mi basta a capire da che parte iniziare le cose non migliorano se io poi vado avanti entro nella creazione guidata in un modo più o meno rocambolesco riesco ad entrare nella creazione guidata non capisco assolutamente cos'è che io debbo fare cos'è che io devo fare su questa schermata questa è sicuramente la creazione guidata della fattura ma non assomiglia in alcun modo al modo in cui io faccio le fatture tradizionalmente il primo passaggio che il software mi richiede per la creazione della fattura non è di fare la fattura ma è di cercare in anagrafica di selezionare un cliente questo è il mio primo accesso al software e quindi è evidente che non c'è alcun cliente archiviato però è la prima cosa che mi viene chiesta non solo benché mi venga chiesto non c'è nemmeno in evidenza la schermata la mascherina per inserire il cliente infatti se io non avendo alcun cliente volessi inserirlo devo cliccare su un'altra scheda ancora che è modifica inserisce anagrafica quindi allontanarmi da questa pagina che quindi mi è stata inutile fondamentalmente per andare a inserire questa cosa da un'altra parte ancora e sto già girando gironzolando nel software da un po' tentando varie strade e non ho ancora iniziato veramente a fare nulla lasciamo stare poi ci sono indicazioni numeriche che poi non si capisce cosa vogliono dire è uno se è il primo passo di una procedura o se è uno di più all'interno della stessa schermata ecco la modifica l'inserimento dell'anagrafica che avviene in quest'altra schermata che voi dovreste vedere adesso per esempio è ulteriormente poco parlante poco chiara i campi sono estremamente piccoli e poco visibili sullo sfondo per cui se lo usate anche da un dispositivo touch è molto probabile che compierete degli errori nell'inserimento nel tentare di attivare i campi perché A non li vedete B sono poi piuttosto piccoli e siamo ancora dopo diverse schermate e diversi tentativi allo stato zero dell'avanzamento del servizio ok vado avanti anche qui velocemente potrei continuare a segnalare altri problemi di questa schermata ma preferisco andare a mostrare un esempio alternativo andiamo avanti ecco l'esempio alternativo di un altro software che spero comparirà io non lo vedo comparire ma spero che per voi sì ecco questo ecco questo le frecce sono state aggiunte in seguito è un altro software che fa le stesse cose ma adotta un modello concettuale simile a quello che io conosco cioè mi mostra un facsimile della fattura in questo facsimile io so dove va il cliente dove mettere il servizio da fatturare la quantità il prezzo il tipo di regime fiscale è facilmente identificabile ecco sono due approcci al software radicalmente opposti entrambi funzionano perché si riescono a fare le fatture con entrambi il tempo speso con il primo software per fare la prima fattura è stato di due ore il tempo speso con il secondo software è stato di 15 minuti ecco senza alcuna difficoltà senza contare diciamo così il carico mentale lo stress la difficoltà tutte cose poco quantificabili e monetizzabili questo è quello che possiamo utilizzare come esempio per dire che non basta che i servizi funzionino bisogna che siano anche soddisfacenti per di più la soddisfazione degli utenti è qualcosa che è addirittura prevista dalle norme benché nelle norme non si spieghi come arrivarci nella slide 44 adesso spero di riuscire a scorrere comunque dovremmo adesso arrivarci pian pianino parliamo proprio degli articoli del del CAD in particolare l'articolo 7 che ha come titolo proprio qualità dei servizi presi e soddisfazione dell'utenza lo scorrimento è sempre un po' difficoltoso soprattutto se si devono saltare alcune slide eccolo ecco 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 questo diciamo è l'unico esempio di articolo del CAD dell'articolo 7 di cui vi mostro diciamo così anche le modifiche che interverranno nel 2017 verranno cancellate in questo comma dell'articolo 7 le righe che vedete barrate e verranno sostituite con il secondo punto elenco questo per dire che comunque non cambia grossomodo il senso del tutto possono cambiare alcuni dettagli della norma ma sempre di qualità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza si parla e sempre questo è un tema previsto dalle norme e dall'ordinamento italiano anche se come dicevo non è sempre semplice capire come arrivarci ci sono altri articoli che ne parlano come ad esempio il 63 che prescrive che i soggetti di cui all'articolo 2 progettano e realizzano i servizi mirando alla migliore soddisfazione dell'esigenza degli utenti è previsto dal CAD mirare alla migliore soddisfazione dell'esigenza degli utenti oltre che dovrebbe essere un obiettivo naturalmente ovvio benché non lo sia invece quello che succede ahimè realmente lo abbiamo lo vediamo da alcune statistiche europee che vengono raccolte in dalla digital scoreboard europeo per monitorare l'avanzamento dell'agenda digitale in vari paesi ci mostra come per esempio il numero di imprese che inviano moduli compilati dell'epa online sia costantemente in Italia ben sotto la media europea questo attesta che non stiamo facendo non stiamo neanche convergendo verso la media non dico verso i migliori verso la media facciamo un altro però esempio persone fisiche non imprese che inviano moduli dell'epa online la differenza è ancora maggiore con la media europea abbiamo grosse difficoltà a diciamo che inviare moduli è uno dei livelli di interattività che abbiamo visto prima ma è un esempio per dire dei tipi di servizi che possiamo per vedere a che punto siamo con i servizi sostanzialmente non c'è soltanto questo non c'è soltanto il settore pubblico in difficoltà rispetto all'Europa ed è quello che stavo provando a dire anche prima questo servizio di statistica rileva anche l'uso dell'online banking per esempio che è sensibilmente sotto la media europea e quindi il problema della scarsa dello scarsa utilizzo dei canali digitali e della presumibile scarsa soddisfazione degli utenti verso i servizi digitali riguarda anche i privati è un po' sistemico diciamo andiamo andiamo quindi avanti il problema di fondo è che io qua dico le leggi di Asimov per riferirmi a quelle della robotica online scresosamente una procedura online deve sostituire integralmente la vecchia procedura i costi e i tempi devono essere inferiori alla vecchia procedura e la procedura online deve essere eseguita anche dagli operatori che si occupavano della vecchia procedura online tutte queste cose tendono a non succedere in Italia si tendono a costruire duplicati di procedure e questo è un rischio che va assolutamente evitato è tutto impossibile? no naturalmente no per esempio noi siamo ben sopra la media europea proprio nella fatturazione online semplicemente perché l'abbiamo resa obbligatorie in questo caso quindi l'utilizzo non è necessariamente un indicatore di soddisfazione però diciamo così noi in questo momento non siamo certamente al livello europeo di utilizzo per la maggior parte dei servizi l'esempio di riferimento per le pratiche e le procedure è quello britannico è già stato detto prima ha colpito molto la fantasia di tutti gli operatori il government service design manual del governo britannico che spiega delle procedure molto particolate diciamo così per la progettazione e per una progettazione che non sia semplicemente funzionale che risponda a logiche funzionali ma che costruisca servizi digital by default come vedete è scritto anche in questo slide noi l'abbiamo ripreso abbiamo visto prima questo tema del digital by default quindi noi ci stiamo ispirando diciamo in questo caso al governo britannico e a quello statuntenso ma abbiamo ripreso come diceva Alessandra anche l'idea di costruire servizi talmente buoni che le persone desiderino usarli preferiscono usarli ecco questo a giudicare dalle statistiche che abbiamo appena visto non sta ancora ancora succedendo vado un po' avanti un problema che complica le cose è che nel tempo le aspettative dei fruitori cambiano su un servizio e noi dobbiamo tenerne un po' conto quindi anche un buon servizio nel tempo potrà mutarsi in un servizio insoddisfacente questo fa sì che non si aggiunga mai un obiettivo stabile in tal senso e che si debba sempre rincorrere in qualche maniera un'innovazione dal punto di vista della soddisfazione perché succede questo? beh questo viene per diverse ragioni intanto perché noi compariamo la nostra esperienza d'uso di ogni cosa con le altre che utilizziamo un social network della pubblica amministrazione che non sia al pari con facebook verrà giudicato diciamo così lento macchinoso perché noi ci basiamo nelle nostre valutazioni sulle esperienze migliori che facciamo altrove chiaramente nessuna pubblica amministrazione ha le risorse che ha facebook o che hanno gli altri grandi big e quindi ci troviamo di fronte a un problema anche necessario di competizione si tende a fare brutta figura ma non è l'unico tende a fare brutta figura non è l'unico problema il problema è che anche se facciamo degli ottimi servizi nel tempo questi ottimi servizi tendono ad averli tutti quello che all'inizio era magari un vantaggio competitivo per qualcuno questo è un diagramma caro la linea rossa ci dice che ci sono alcune diciamo caratteristiche che un servizio ha che portano ad un'elevatissima soddisfazione mentre altre sono caratteristiche che bisogna avere ma che se le abbiamo soddisfano i requisiti minimi non portano in su la soddisfazione per esempio facciamo un esempio banale dei telefonini i telefonini devono consentire di telefonare come minimo tutti i telefonini consentono di telefonare ma questo non è più considerato una caratteristica un requisito che porti a una migliore soddisfazione quando è uscito il primo iPhone per esempio lo schermo touch è colorato ha fatto sì che queste caratteristiche lo hanno distinto in termini di soddisfazione da tutti gli altri competitor quella caratteristica era una caratteristica che faceva dall'iPhone un un deliter dicono in questo diagramma cioè un elemento che porta a una soddisfazione elevata in pochi anni tutti i competitor si sono dotati di un'interfaccia simile a quell'iPhone quindi l'idea di avere uno schermo touch e delle icone non è più sufficiente a creare un telefono ipersoddisfacente bisogna puntare su altre caratteristiche vedete che quelle che erano caratteristiche di delizia che deliziavano l'utente qualche anno fa diventano esigenze elementari che si dà per scontato che ci debbano essere questo vale per tutti i nostri servizi e questo complica molto la progettazione e ci obbliga anche a guardare sempre quello che fanno gli altri per capire cosa può portare in su questa soddisfazione la qualità percepita quindi diciamo varia nel tempo e questa è una cosa che non possiamo eliminare quello che possiamo però iniziare a dire a tener conto nel nostro lavoro lo vedrete nel resto nel corso delle video lezioni che ci sono delle strategie per valutare la qualità del servizio brevemente ci sono almeno tre modi per capire se un servizio è di buona qualità o meno come sappiamo se stiamo facendo bene o male conoscere a che punto siamo è un passaggio necessario per migliorare un primo modo è quello di chiederlo agli utenti empirico di vedere utenti usare il nostro servizio di fargli delle domande di usare comunque gli utenti come fonte di informazione visto che la soddisfazione è la soddisfazione degli utenti sembra logico chiedere a loro la soddisfazione e questo si può fare attraverso dei test attraverso dei momenti di incontro attraverso delle interviste ci sono vari strumenti quindi questo è un modo che ci fa capire che punto siamo un altro modo un po' più difficile diciamo così è quello di leggere nella mente degli utenti ma diciamo che non si è trovato ancora un sistema affidabilissimo veramente noi stiamo scherzando una prima un certo punto nel senso che si stanno sviluppando dei metodi di rilevazione della della conduttività galvanica della pelle per per riuscire a capire le nostre emozioni mentre usiamo un certo servizio o vediamo un certo filmato prodotto eccetera quindi non è detto che in futuro non si riesca a leggere nella mente in qualche modo dei consumatori e dei fruitori di servizi nel terzo modo è guardare come stiamo andando a livello di prestazioni questi tre metodi hanno tutti dei pro e dei contro il pro e il contro principale è che la cosa che dobbiamo tenere conto insomma è che non tutti sono utilizzabili sempre ma il metodo empirico quello con utenti si può usare già in fase di progetto cioè prima che il prodotto esca ed è lì che è bene che questo prodotto venga valutato prima che esca quante volte nei progetti che fate fate queste valutazioni di qualità prima che il prodotto esca il metodo mentalista è chiaramente quello che abbiamo visto ed è esageratamente dipendente dal valutatore diciamo così è un momento poco praticabile le statistiche sono un interessante metodo di monitoraggio che vedo anche poco utilizzato molte volte nelle pubbliche amministrazioni tuttavia ha il limite di pescare con una rete molto larga prende tutto comportamenti casuali visite casuali visite orientate a certi obiettivi visite orientate ad altri è molto difficile scremare dalle statistiche un livello di soddisfazione e non possiamo porre domande dirette invece domande dirette poi concludo agli utenti possiamo porle ad esempio al termine di alcune procedure questa è quella che fa l'Italia ma che fanno altri questo ci consente di come dire anche con il sito online di avere dei feedback degli utenti per capire come stiamo facendo il tema successivo oltre a definire che cosa vogliamo chiedere agli utenti che tipo di soddisfazione vogliamo chiedere è identificare un processo che consenta già in fase di progettazione di inserire queste verifiche di qualità via via e di tenerne traccia per migliorarla sempre in modo che quando il prodotto esce abbiamo già un'idea di come andrà e poi dobbiamo semplicemente verificare quanto ci siamo sbagliati piuttosto che buttarlo là e sperare che le cose funzionino ecco questo non è un metodo così consueto dovrebbe diventarlo è un metodo basato su una progettazione orientata alle persone è quello di cui parleremo e parlerete nel corso del corso e anche nei prossimi webinar lo riprenderemo ci sono varie tecniche le vedremo nelle lezioni nelle video lezioni e l'obiettivo sostanzialmente è quello di rendere tutto il nostro processo orientato non soltanto alla funzionalità ma alla soddisfazione e al suo monitoraggio ok io ho sporato come mi spesso